C'è il giudizio? Non lo so 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 Vuoi stare disteso e ti trascino per le gambe? Che cazzo E' una strada male Guarda che cosa Questa mi guarda la strada Ok pronto Vai No no più in testa Era fatta Azione Azione No fa ridere No Non preoccuparti Non preoccuparti Non è finito anche se si stava bene E' facile E' stato meglio Quella lì era meglio Qual era? Questa Eh? Si Che 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 Grazie a tutti.